Dopo i serbatoi dello Scudillo, a Napoli nasce il secondo orto urbano, in via Cilea, un nuovo polmone verde inaugurato nel quartiere collinare dal sindaco De Magistris e il presidente dell'Arin, Maurizio Barracco, con l'obiettivo di prevenire frane e smottamenti del terreno e sperimentare allo stesso tempo forme di aggregazione sociale. Giovani e anziani dovranno infatti collaborare alla coltivazione di prodotti biologici e curarne poi la vendita, coniugando in tal senso la tutela del paesaggio ad un'agricoltura di qualità. Grazie ad Arin è un altro orto urbano della città che può essere alimentato col compost della raccolta differenziata. Noi puntiamo moltissimo alla terra, al nostro territorio in tutte le sue accezioni e questo è un esempio, un vitigno, agricoltura, broccoli, un vero e proprio pensatoio nel cuore del vomero e della nostra città. L'iniziativa è frutto di un accordo stipulato nel dicembre scorso con la Facoltà di Agraria dell'Università Federico II, che ha individuato le piantagioni adatte al terreno ed ha assegnato due borse di studio a neolaureati specializzati nel settore, chiamati alla guida del progetto. Un'operazione sociale, vecchi e giovani potranno produrre prodotti biologici e venderli naturalmente nel quartiere o nei mercatini. Ce ne saranno altri due, il prossimo sarà a Chiaiano e il secondo sotto lo scudillo. Si lavora intanto la trasformazione dell'Arin in azienda speciale, che su decisione del Comune si chiamerà ABC, Acqua Bene Comune, e novità sono state annunciate anche sul fronte dei rapporti con l'utenza. D'intesa con l'amministrazione, l'Azienda per le Risorse Idriche di Napoli sta infatti predisponendo una pagina internet su cui saranno aggiornati mensilmente i dati sulla qualità dell'acqua.